Eccoci qui, una buona domenica come state, un saluto a tutti, ben ritrovati, già fatto colazione, magari qualcuno è a pranzo, poi tra l'altro ci guardate a tutto il mondo, qualcuno stando a letto, se lo vede questo video più tardi non lo so. Buona domenica, io tra poco ho colazione con la tazza di Milanello, cappuccio, io lo chiamo cappuccio perché è latte, lo monto con il cappucinatore ma non metto il caffè perché ho reflusso, quindi è latte montato. Però mi piace più il nome cappuccio con la tazza di Milanello che tiene compagnia ogni mattina. Come state? Più tardi ovviamente parliamo della partita di stasera, ma ci sono tante novità, mi raccomando commentate numerosi, lasciate un like, se arriviamo a 4000 like vi spoiler delle novità sul grande lavoro che stiamo facendo con Fabrizio Rota e poi vi ricordo di iscrivervi da questa parte. Se non lo avete ancora fatto iscrivetevi anche al mio canale personale, vi metto qui sotto il link, chi non si iscrive ti fa la seconda squadra di Milano che era e resterà sempre la seconda squadra di Milano anche se oggi purtroppo è uno squadrone importante. Va detto, purtroppo, purtroppo, purtroppo. Per collaborazioni commerciali, promuovere un'idea, una pagina, un'azienda o dei prodotti mandate una mail a milanellolive.com Ripeto, milanellolive con l'hgmail.com Allora, come sempre siete scatenati sulla community, è la seconda volta che registro il video perché quello di prima è partito l'audio, mannaggia! E quindi veniamo qui questa volta, speriamo che sia tutto ok, se vedete questo video è tutto ok. Allora, le domande Allora, quando rientrano tutti, proponete una formazione? Quando rientrano tutti io sono molto contento perché ho sempre detto che il Milan se li ha tutti a disposizione una squadra forte, forte che poteva ambire per lo scudetto, puntarlo e lottare fino alla fine di questa stagione. Qualcuno propone success per l'anno prossimo, alternativa in attacco, giocatore dell'Udinese Comunque alternativa ideale per Ruben dice Vediamo, è un nome, non ci sono notizie, è una tua proposta e la registriamo. Bisogna puntare più sui parametri zero, su giocatori esperti stile Kelly Giocatori non tanto conosciuti ma che nel contesto Minas si inseriscono bene con un buon rendimento di squadra. Kelly, Bormaf, non fai un nome a caso perché il Milan vuole fare un colpo a parametro zero in difesa L'Inter ha fatto zilis che tremi che sono ottime operazioni Il Milan sta provando a convincere Kelly a firmare per la prossima stagione a parametro zero Speriamo tanto, giocatore inglese ma comunitario ai fini calcistici Ha già giocato con Tomori C'è concorrenza però insomma piedemancino, interessante Potrebbe arrivare per migliorare un reparto che comunque necessita di rinforzi Vediamo che cosa succede su questo fronte Però sono molto d'accordo, serve anche l'esperienza Non che Kelly ne abbia da vendere Serve anche qualche giocatore magari più fatto e finito Nel bel senso del termine, non finito perché è arrivato Poi Il Milan sta andando bene ma i risultati secondo Lorenzo non sono attendibili Visti gli avversari La squadra è molto forte ma limitata da Pioli Cosa ne pensi? Mi sono già espresso, non voglio essere ripetitivo Secondo me il Milan è una squadra forte Che ha tante risorse, molto più forte dello scorso anno E quest'anno doveva puntare allo scudetto Gli infortuni hanno condizionato troppo Gli infortuni però non sono sfortuna, sono responsabilità Che ha debito a Pioli e al suo staff Non soltanto io evidentemente ma anche lo stesso Cardinale Che su questo punto ieri mi è piaciuto Pioli, Pioli con testo di infortuni Un atteggiamento tattico a volte spregiudicato Poco equilibrio, una difesa che prendeva sempre gol E qualche scelta anche sbagliata Quella strategica di puntare su Cronici in estate E qualche mese dopo va via Segnando comunque un fallimento di quell'operazione Poi proseguiamo Qualsiasi attaccante centrale per come giochiamo Farà sempre grande fatica Vedendo appunto Giroud che non gliela passano mai Con questo tipo di gioco l'attaccante ideale Sono sempre più convinto che possa essere Zirze Non farà tanti gol ma manderebbe in doppia cifra le esterne Che ne pensi? Un saluto Silvano, un saluto anche a te Ti posso dire che in questo momento Il Milan Ha tenuto più contatti con l'entourage di Zirze E ha iniziato una sorta di trattativa Ancora in fase esplorativa con il Bologna Segno che il Milan vuole Zirze Il che intendiamoci non significa che arriverà a Zirze Significa che si vuole provare a portarlo a casa Il tuo discorso può essere interessante L'altro giorno abbiamo giocato così In altri casi però secondo me Abbiamo anche servito meglio la punta Bisogna migliorare il gioco anche centralmente L'altro giorno abbiamo valorizzato gli esterni Non siamo mai andati centralmente Con un certo campo che era piuttosto bloccato Zirze può essere una chiave Io ritengo che però Ti farebbe segnare di più gli esterni Ma abbiamo bisogno comunque di un 9 Dopo tanto tempo che ti fa partire dall'1-0 Cosa che altre squadre hanno e noi no E Zirze non è quel tipo di attaccante Dovesse arrivare mi piacerebbe comunque Però ecco Il Milan sta seguendo Sesco Per cui non c'è una trattativa Che secondo me è quello che serve maggiormente Perché Sesco è uno che può arrivare a fare tanti tanti gol È un 9, è vero Zirze è un ibrido tra trequartista E sottopunta E prima punta Ma non è una prima punta Siccome Massara non è approdato ancora nella Roma C'è uno spiraglio di rivederlo al Milan con Maldini Allora Massara non è ancora andato alla Roma Maldini Notizia delle ultime ore È rifinito nel mirino del Manchester United Per la dirigenza E quindi entrambi Massara e Maldini Possono essere due cartine da tornasola importanti Sicuramente più significativa quella di Maldini Cioè Se Maldini non va alla United E rifiuta alla United Allora La speranza di vederlo al Milan Con un riassetto Un cambio societario E il gruppo arabo interessato Rimane viva Massara potrebbe anche decidere di andare alla Roma Detto che se la rifiuta è molto significativo Ma se accetta di andare alla Roma Ma ci sta Accettare un posto sicuro Che è stato anche a casa sua Piuttosto che Aspettare magari qualcosa che non si realizza Sul discorso arabo Ripetiamo Il gruppo È Ci sono due gruppi interessati Uno è legato a Paolo Maldini Per acquisizione del club Cardinale Ne prendiamo atto L'arriva dito anche ieri Ma questo ci diceva La madre del bird Non vuole vendere Dopodiché Vedremo se il gruppo arabo sarà convincente O se magari ci sarà una soluzione intermedia E entreranno con la minoranza Per poi avere un'opzione Per avere la maggioranza Completato l'iter burocratico dello stadio Ripeto Lo United punta Maldini Vediamo Se Maldini accetta Significa che il discorso arabo In qualche modo è naufragato Se non accetta Significa che nella sua testa È tutto ancora realizzabile In tempi magari non così lontani Poi Così ha risposto anche Francesco Meglio cedere Megnan Per tanti ottimi portieri italiani in giro Piuttosto che perdere Leao Allora Cardinale ci dice che vuole vincere Qualsiasi cosa La cosa più importante per lui è vincere Quindi che tenga tutti e tre Non parta nessuno Non parta nessuno Altrimenti Dipende molto da che tipo di gioco fai Se giochi con il 4-2-3-1 Leao deve restare Se giochi con il 3-5-2 Leao Ma l'incuore magari può andare via Il candidato è principale come vice Teo Ma non c'è un candidato principale Diciamo C'era uno spagnolo Ora non ricordo il nome Ma La butto lì Calafiori Se prendi Calafiori Prendi due piccioni con una fava Perché ti fa Sia il difensore centrale Che all'occorrenza il terzino Che poi era il suo ruolo originale Perché no? Sul terzino destro In caso resti Pioli Al momento non ci sono Approfondimenti Discorsi con la società Idem per Tiego Motta In caso venga Conte Conte Gradirebbe il profilo Di Lorenzo Del Napoli Poi un centrale difensivo Che prende in estate Il posto di Kier Abbiamo detto di Kelly C'è anche l'opzione Buongiorno Poi qualcuno dice Se Esco andava preso Lo scorso anno In realtà lo scorso anno Non si poteva prendere Che senso va prenderlo Quest'anno a 50? La clausola è a 50 Ma in Milano ovviamente Nel caso va a discutere A trattare Teatre Si è messo nel taschino Giroud Soprattutto Buongiorno 40 milioni Le vale Tu dici Quindi piuttosto che Giroud Buongiorno Prendiamo Teatre Che costa meno Piaceva molto Caratto Pogliani Piaceva molto anche Al Milan Prima di Vederlo poi prodare Al Ren Direi che Può essere un'idea Si è messo in tasca Giroud Ma non perché Giroud ha fatto male Perché non è stato Particolarmente servito Le voci discordanti Su conferma di Pioli O interesse Su altri allenatori Possono essere messe In giro dalla società Per nascondere Che hanno già L'accordo con Conte È Un'ipotesi Detto che Sicuramente Dipenderà molto Anche da come Prosegue la stagione E chi la spunti In società A tua sensazione Quale percentuale Di Conte Milan Io a oggi Do 35% Permanenza Pioli 35% Conte 20% Tiago Motta 10% Lopetechi Lopetechi Semplicemente Perché c'è stato L'incontro Con Moncada Qualche settimana fa E non può essere Ignorato Xabi Alonso Il Bayern Leverkusen Sta facendo molto bene L'unico allenatore Straniero Per il quale Farei un'eccezione Detto che Secondo me O va al Bayern Monaco Piuttosto che al Barcellone Insomma Non credo che Possa arrivare al Milan Jimenez Si può ancora riscattare Sì Jimenez Credo che resterà Però È come Brian Diaz Cioè il Real Quando vuole Se lo riprende E se fa bene Quindi lo riprendono Se non fa bene Può restare Frimpong Un nome che mi piace Ma non ho news Al momento Domanda secca Gabbia Vale buongiorno Risposta Domanda interessante Matteo Risposta secca Secondo me No Oggi no Nel senso È un po' È un po' È un po' Più avanti Poi è vero che Ha giocato tanto Cosa che Gabby Non ha giocato Quando gioca Sta facendo bene Però Secondo me Buongiorno È un profilo Superiore Nulla togliere a Matteo Tempo al tempo Dice Giuseppe La campagna acquisti Sta dando i suoi frutti Gabby Alloftus Pulisic Reinders Okafor Iovic L'unice ancora Così così Sono Ciucquezze Musa Vero Musa 20 anni Però Ciucquezze Speriamo che possa Invertire la rotta Detto questo Io L'ho sempre detto Non l'ho mai messo in dubbio Anche quando le cose Andavano male E mi dicevate Per fortuna che vi ho dato Sette e mezzo al mercato E ribadivo anche Nei momenti difficili Perché per me Sono acquisti Decisamente azzeccati E il Minan È una squadra forte Se non dovessi prendere Nei conti Nei Tiago Motta Per impiazzare Pioli Che prenderesti Xavi Alonso Fosse fattibile Poi A tuo parere Tra 5 o 6 anni Mbappé Ma io spero anche Tra 3 o 4 Sarebbe clamoroso Come dici tu Però Dovrebbe verificarsi Che cosa Alzare terribilmente Il fatturato Quindi stadio E Avere una nuova proprietà Non cardinale Quindi sono cose Che si realizzeranno Sì Ci vuole un po' di tempo Probabilmente sì Però mi piace pensare Che non tra 5 o 6 anni Tra 3 anni Magari noi siamo A livelli Importanti Detto che poi C'è la variabile Superlega Ci sono tante cose Che possono accadere E In questo senso Il discorso stadio È molto importante Speriamo che le cose Possano andare avanti Rapidamente E vedremo poi Come cardinale Uscirà dal legame Con Elliot Con questa restituzione Dei 600-700 milioni di euro Che entro un anno e mezzo Deve dare a Elliot Per non perdere il club Cosa che non accadrà Non perderà il club Quindi le risorse le troverà Saranno risorse arabe In America Lui non è riuscito A trovare i fondi Che voleva E questo è Agliatti Adesso si è facciato Al golfo persico Dove vogliono però Entrare con la maggioranza Nulla minoranza Una partita tutta da giocare Vedremo insieme Poi alla fine Chi la spunterà Se lui si terrà il Milan Ma otterrà le risorse O se la spunteranno Con un'offerta shock E gli arabi Che vogliono acquistare Il club Ribadisco Quello che è stato detto ieri Secondo me Non sposta nulla Su tanti temi Su pioli Anche se quando parla Di infortuni Fa capire che è un po' Seccato da quel tema Giustamente Quel passaggio Mi è piaciuto Sul fatto che dice Voglio vincere Ragazzi Non ho mai visto nessuno Che dica Voglio perdere Non lo sta dimostrando nei fatti Abbiamo visto il mercato di gennaio Speriamo che in esatto Lo possa fare Quindi Che non parta nessuno Che rinnovi Notteve Mignan Che si alzi davvero La siccella Che si facciano investimenti Importanti Abbiamo detto Difesa Colpo a zero Potrebbe essere Nelle idee del Milan Nelle intenzioni del Milan Kelly del Bournemouth Attenzione poi Anche al discorso Maldini United United punta Paolo Maldini Accetterà oppure no Sarà una cartina Tornasola importante Sul proseguo Del dossier Milan Da parte Del gruppo arabo Legato a Paolo Maldini Che dire Ci vediamo più tardi Scatenatevi con i commenti Arriviamo a 4.000 like Commentate numerosi Iscrivetevi da questa parte Anche al mio canale personale Vi metto qui sotto il link Chi non si iscrive Ti fa la seconda squadra di Milano Vengo a vedere chi si è iscritto E più tardi Parremo ovviamente Della partita non solo Ditemi poi Di Zirze Io sarei contento Ma non contentissimo Sarei contentissimo Con Sesco Con entrambi Con un modulo diverso Mamma mia Un abbraccio Forza Milano Ci vediamo dopo E buona colazione Grazie a tutti